Bellissimo, preciso, verrà un po' dussuosso, forse quando le scene cavallettate rimangono un po' dussuosso, forse è pure accordabile. Il cavallettato percorso è un po' di sbagliato, massimo 3 minuti. Il cavallettato percorso è un po' di sbagliato, percorso è un po' di sbagliato, percorso è un po' di sbagliato. Il cavalletto percorso è un po' di sbagliato, percorso è un po' di sbagliato, percorso è un po' di sbagliato. Ah, la parte sbagliato, però questa la facciamo unita? Sì, questa è un po', lei deve prendere il libro e aprire la prima pagina, poi arriviamo a questa, che lei apre. Non ci sei a confondermi con i tuoi miei sguardi in gelo E tu lo sai che nel silenzio vive nulla Non ci sei a confondermi con i tuoi miei